È stato approvato a maggioranza dal Consiglio regionale con il voto contrario del Movimento 5 Stelle l'astenzione della coalizione di centro-sinistra, il progetto di legge che prevede modifiche ed integrazioni alle leggi regionali per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi della costa bruzzese. La norma prevede, tra le altre cose, che la parte di struttura componente del trabocco destinata a ristorazione, aperta al pubblico, non può eccedere alla superficie di 160 metri quadrati calpestabili e la parte destinata a servizi ed accessori connessi alla ristorazione, quali cucine e servizi, non può superare 50 metri quadrati calpestabili. Inoltre, l'attività di ristorazione può essere svolta con un'accoglienza massima di 60 persone, inclusi ospiti e personale. Soddisfazione per il centro-destra, ma direi per tutto il Consiglio regionale, soddisfazione per l'Abruzzo, perché grazie a questa legge noi siamo convinti che avremo una possibilità di essere ancora più importanti a un punto di vista dell'offerta turistica e destagionalizzare il turismo non solo in quella zona. Sulla questione, lo ricordiamo, nelle ultime settimane sono divampate e roventi polemiche a seguito delle visite ispettive della Capitaneria, che avrebbe accertato irregolarità urbanistiche legate all'ampliamento e messa in sicurezza delle strutture ricettive sul mare, in particolare sulla costa teatina. Ma sì, intanto passa grazie alle opposizioni, perché noi per ben due volte in commissione, se ne sono tenute tre di commissioni, abbiamo garantito il numero legale. E così facendo, consentendo che la norma prodasse in aula e oggi venisse licenziata, peraltro con dei miglioramenti che abbiamo fortemente voluto, che ripristinano le caratteristiche originali e tradizionali dei trabocchi, che dedicano oltre all'attività ristorativa anche le attività turistiche, formative, didattiche, questa importante infrastruttura per tutta la costa e per la nostra comunità. Ha espresso a voto contrario, come già detto, il Movimento 5 Stelle. Questa legge è un'occasione mancata per l'Abruzzo, che vede nei trabocchi strutture uniche al mondo, simbolo della nostra storia e della nostra cultura. Da oltre dieci anni, la Regione non licenzia norme su questa materia ed ora, invece di apportare la necessaria ed utile chiarezza normativa, approva un testo che crea ancora più confusione e che recherà più problemi di quanti ne risolve e quanto ha affermato infine il consigliere regionale pentassellato Pietro Smargiassi.